il caso di arthur moldon scritto letto e interpretato dall'avido alchimista se ne sconsiglia l'ascolto ad un pubblico impressionabile se vi piace la mia voce e il modo in cui interpreto quest'opera potete aiutarmi oppure contattarmi per un lavoro su commissione ai link che trovate in descrizione grazie buon ascolto 23 giugno 1986 sesto incontro con il paziente arthur moldon eccoci qui ciao arthur salve dottore come sta sei molto premuroso chiedermelo io sto bene grazie tu piuttosto come stai oggi come sempre doc hai avuto altri problemi ti ha ti ha lasciato un po in pace non mi ha lasciato dormire tutta la notte doc mi continua a parlare senza tregua mi fa paura doc mi sussurra nell'orecchio cose orribili capisco sembra che le medicine non stiano facendo effetto quindi stai prendendo le medicine vero arthur bene molto bene posso chiederti di che cosa ti parla cosa ti sussurra all'orecchio di così spaventoso da non farti dormire ti dispiace se mi accendo una sigaretta mentre parliamo no faccia pure doc lui mi parla di mia sorella respira calmo sei in un luogo sicuro abbiamo tutto il tempo del mondo ok mi parla di quando è morta dice che l'ho uccisa che non fossi stato mai in vita lei ora avrebbe una sua famiglia tutta sua doc io l'ho uccisa perché sono un pazzo per un giocattolo ma noi sappiamo che non è così giusto arthur sappiamo che lei è morta per colpo di una crisi epilettica sappiamo anche che non sei pazzo non è così che ci piace chiamare le persone affette da schizofrenia non è così qualunque cosa dica lui non deve compromettere questa realtà arthur tu riesci a parlargli tu puoi rispondere a quello che dice non ci provo più perché se gli dico di andare lui si mette a ridere mi prende in giro ride fortissimo doc mi umilia doc se invece sto fermo lui dopo un po' se ne va io aspetto e lui va via doc quindi lui è il peggiore per ora io non lo so se peggio di bafometto o sullo stesso piano peggio perché lui racconta di me di lei di quel giorno che l'ho uccisa io io tu non hai ucciso tua sorella arthur no io non lo hai fatto no del resto come vanno le cose hai legato con qualcuno degli altri pazienti oppure ancora nulla qui sono tutti matti doc non mi sento molto a mio agio capisco cosa intendi ehi arthur che succede tutto ok vuoi vuoi un po d'acqua aspetta marla marla mi porteresti un bicchiere d'acqua per altro per favore tutto bene ok solo che ci sono ok sì certo grazie marla tieni arthur bevi qualcosa grazie doc ti ho visto distratto per un attimo non è che per caso ti stava dicendo qualcosa ehi non è un problema come ti dico sempre questo è un luogo sicuro non devi preoccuparti di essere giudicato se ti parla sopra lo stronzo è lui dico bene non lo chiami più così così come arthur intendi stronzo sì 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 lo faccia lo fa robare beh ok allora sembra che abbiamo un demone permaloso qui certo le vuole le vuole parlare ah sì mi vuole parlare davvero ma fumetto non si è mai palesato davanti a me come mai questo vorrebbe parlarmi wow che succede arthur che succede dottore lo chiedo io a lei e tu saresti mi sembrava di essere in terapia con arthur io io sarei lo stronzo dottore ma i miei adepti mi chiamano diversamente avresti anche degli adepti oltre ad essere un parassita nel corpo di arthur Eh, parassita Qualunque corpo umano è mio di diritto I vostri involucri non sono vostri Oh, sì Capisco Ti dispiace se fumo mentre ascolto quello che hai da dire? Molto bene Una buona notizia per il tuo tumore latente allo stomaco Prego Ah, non preoccuparti Possiamo parlarne di nuovo tra Tre anni Vedi, dottore Mi stai un po' infastidendo Non fraintendermi Non come quegli stupidi preti Che provano a ferirmi con dell'acqua O con l'ipocrisia inversi No, no, assolutamente Appreccio Davvero moltissimo il tuo lavoro Ma vedi C'è una riunione in corso qui Capisco che ti chieda Perché dovrebbe essere in corso Una riunione nel corpo di Arthur Lamerdina Molden Ma non posso darti una risposta perché non sono stato io a decidere il luogo Ma quel caprone di baffometto Un tipo parecchio testardo Per qualche ragione si sente a casa qui Capisco E di che tipo di riunione stiamo parlando? Se posso chiedere Ho nulla di che Una riunione abbastanza noiosa Tra alcuni dei più potenti demoni dell'inferno Una palla mortale Lo ammetto Ma che ci vuoi fare? Sono obbligato a soprassedere alla riunione Perciò Capisco Quindi io starei Rovinando l'atmosfera Perché sto provando a portare un po' di sollievo ad Arthur Proprio così, caro dottore Mi sembrava doveroso almeno spiegarle che cosa sta interrompendo qui Posso almeno sapere con chi sto parlando? Oh beh, ma con il grande capo in persona, l'astro dei cieli Ah, addirittura con il grande capo Quindi... Lucifero, immagino Proprio così, Doc In carne e merda I miei compagni in questo momento Staranno sicuramente divagando A questo punto avranno abbandonato l'ordine del giorno E staranno scopando tutto quello che si muove Insomma Senza la mia presenza La riunione annuale è poco più di un'orgia Io non sono così venale Come altri demoni o umani Beh, scommetto che tu sei un vero gentiluomo Non è vero? Puoi contarci, dottore Niente bagni di sperma come behemot O gare di bestemmie e lancio della merda assieme a Belzebù Di Lilith Non parlo nemmeno Potresti avere un conato di vomito o qualcosa del genere Sono un uomo con i peli sullo stomaco, astro dei cieli Ma pur sempre un uomo Ok Quindi Esattamente cosa ti aspetti che faccia, astro dei cieli Che metta da parte il mio lavoro e l'affetto che provo per Arthur E assecondi senza batter ciglio ad ogni tua richiesta Beh, direi di sì, sì, proprio così Sai che non posso farlo Quindi Posso parlare con Arthur adesso, per favore? Oh, tu dici? Sì Guarda, guarda sì, va bene Una cosa veloce, eh Mi piace questo tizio, ok? Sì, sì Dopo gli parlo anche dell'omicidio della sorella, certo Eh, scusa, con chi staresti parlando adesso? Sì, 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 un secondo Ecco, c'è Belgebou in linea Vorrebbe parlare con te Un evento più unico che è raro, se lo chiedi a me Che faccio? Te lo passo Beh, direi che... Ok Passamelo Ok, a te Devi sparire, dottore del cervello Tu non capisci la tenebra Che avvolgerà la tua anima Quando le mosche Devoliranno i tuoi occhi Diponendovi le uova E i capetti dell'inferno Danzeranno sul tuo interiore Per l'eternità Mentre l'init E i suoi adepti Rideranno di te E delle tue vergogne Calposteranno tutto ciò Che il tuo cuore È veramente molto importante In questa inutile vita, guarda Ok, ok Calma Uh Sembra che tu abbia fatto arrabbiare Il signore delle mosche Ti chiedo scusa, dottore Sa Come le ho detto I miei colleghi Hanno spesso modalità di approccio Un tantino più dirette E scurrili Rispetto a quelle che posso avere io Certo Lo vedo, è È davvero Ora basta, dottore Bando alle cazzate La mia richiesta è molto semplice Stattene zitto E riporta Arthur Nella sua cella Lasciaci finire questa riunione Che con tutta probabilità Durerà molto meno Di due settimane E poi il caro Molden Potrà tornare a fare La sua pacifica vita da pazzoide assassino Con qualche Con qualche saltuaria scopata da parte di Bafometto Che Ti assicuro, dottore È uno dei più delicati e dolci di tutti Quando ci si mette Io non posso certamente Ehi Stai zitto adesso Come dicevo Arthur Molden Continuerà a fare la sua vita Quasi indisturbato Io però Capisci Sono un essere giusto Io sono Un essere che sa Che cosa significa Essere punito Per un po' di curiosità Per essere stato Empatico E per aver usato ragionare Quindi Ti renderò Partecipe delle azioni E della breve E vicida storia Di questo involucro In breve Anzi In brevissimo Il pezzo di merda Ha ucciso la sua sorellina Quando era piccolo E no No a me partire Con la rottura del cazzo Del Non è stata colpa sua È malato Lei era epilettica No cazzo Rispargnamela Io Sono il fottuto Lucifero Non tuo cugino stupido E Insomma Questo bastardo È Fondamentalmente marcio Le medicine E tutta la comprensione Di cui lo avete riempito Lo hanno reso Questa Specie Di Pietosa Pecorella Zoppa Ma Io so Chi merita cosa Il caprone Non sarebbe mai stato Così comodo Nell'involucro Di un'anima sana Ti starai chiedendo Perché Ti sto dicendo Tutto questo No? Già Me lo sto chiedendo Ah Bene Bene Come ti ho già annunciato Tu mi piaci Molto Dottore E io sono Probabilmente L'unico In questa stanza Che non ti staccherebbe Le vertebre A partire Da quella centrale Per questo Ci tengo ad avvertirti Il ragazzaccio Qui Ha trovato Già un paio Di settimane fa Ormai Un badge Appartenente a uno Dei tuoi colleghi Qui all'istituto L'ha conservato Ne ha fatto tesoro E ogni giorno Nella sua cella L'ho allimato Con cura e pazienza Mentre pensava A questo giorno Mentre pensava A te Che schizzi sangue Dalla gola Squarciata Proprio così Dottore No No Non mi fare Quella faccia così Perplessa Potrei controllare Tu stesso Mentre riaccompagnerai Il bastardo in camera Nel suo calzino destro C'è una tessera Scheggiata E lavorata Vedere per credere Caro mio dottore Lo vedi Non sono Un bastardo Come credi tu Quando dico Che mi piaci Io lo intendo davvero Non tutti Quelli che mi sono piaciuti Però Ne sono rimasti Così contenti Tuttavia Ora Ascoltami Molto bene Bene Me ne torno di sotto E provo a riportare Un po' di ordine Tra i ragazzi Hai Precisamente Un'ora Per infilare Questo sacco di carne Nella sua cella Al buio Altrimenti E qui Scatta la minaccia Potremmo decidere Di Per dire Fottercene Di dove Baffometto Preferisce Defecare E spostare La sede Della riunione In qualche posto Più Pulito Magari il tuo Involucro Ci siamo capiti Dottore Beh Io Bene Ci vediamo Tra tre Anni Doc La saluto Cos'è? Le ha Le ha parlato Arthur Posso Controllare Cos'è? Nei calzini Non capisco Dottore Io Credo che tu Capisca molto bene Invece Arthur No Non è vero Niente Di quello che dice Io Non so Cosa Tranquillo Arthur Ora Chiamo un attimo I ragazzi E ti faccio Riaccompagnare Nei tuoi alloggi Credo che Per oggi sia Sia abbastanza così Stai lì Marla Ti dispiace Mandarmi qui I ragazzi Per accompagnare Il signor Molden Nella sua stanza Signor Signor Molden Perché questa Fretta Che ho Fatto Io Controllate Gli calzini Per favore No No Stai Stai fermi Stai buono Fermo Arthur C'è qualcosa Nel suo calzino Dottore Sì lo vedo È una È una tessera Affilata a coltello Mi sembra Vero Arthur Va bene Abbiamo fatto davvero Grandi progressi Oggi E sarei molto curioso Di Parlare ancora con te Ma Credo che Visto quello che hai Portato qui Sia meglio che per un po' Rifletta su quali sono Le tue Intenzioni Diciamo Nei confronti Della Della terapia Dottore Non mi lasci Solo Non voglio tornare lì Mi inizieranno A interrogare Mi fanno cose orribili Quando sono solo Portatelo via Per favore Piano Grazie mille Mi ucciderò Dottore Giro che Mi uccido Io non Passo Andiamo Portatelo via Grazie Grazie Portatelo via 23 giugno 1986 23 giugno 1986 Per oggi Credo che sia Sufficiente Non Non so bene Cosa sia successo Non credo di Aver mai assistito Ad una dissociazione Della personalità Tanto netta e potente Seppure In un caso complesso Come quello di Arthur Molden Il prossimo Aggiornamento audio Andata da destinarsi Mi serve proprio Una sigaretta